Buona Pasqua Abbiamo un nuovo Belvedere, una città utopica nuova e in quella sede, negli auguri di Buona Pasqua con l'ulivo che è il segno della pace, noi produciamo qui a San Leucio il nuovo olio della utopia del Belvedere di San Leucio. Utopia dopo il vino della Reggia, anche l'utopia dell'olio di San Leucio. Tanta pace, tanta serenità insieme al nostro olio, insieme al nostro patrimonio UNESCO, insieme alla nostra città. Tanti auguri a tutti i casertani. Grazie a tutti.